Ciao, carino. Ehm... ciao. Joe non è qui adesso. Dice di incontrarlo da freddi a pranzo. Capisco. Dormivi quando sono entrata? Peccato. Magari un'altra volta. Ciao. Che spettacolo. Che spettacolo. Che spettacolo! Brutta puttana! Ma io... Torna qui, cazzo! Se non sai guidare, statene a casa, al tuo posto! Ehi, non è la ragazza di Joe quella? Beh, una di loro comunque. Tu sei venuta addosso alla mia macchina e io vengo addosso alla tua! Guarda la mia macchina, cazzo! Ehi, amico. Piantala. E tu chi cazzo sei? Uno a cui non piace che parli in quel modo a una donna. Quindi chiudi quella fogna di merda e vattere finché sono di buon umore. Mi hai capito bene? Cos'è la tua ragazza per caso? Beh, se non mi paga lei, allora mi paghi tu. Un'altra parola e ti spacco tutti i denti. E ora levati dai coglioni, strozzo! E io... Ecco la parola in più. Dai! 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 Grazie carina, ti devo un favore. Qualche volta fai un salto da me per una fetta di torta. Sì, grazie, ma adesso devo... devo proprio andare. Ti piacerà, vedrai. Ora però devo scappare. Ci vediamo. great come è il ragazza di questa tua stocca, divino poi... Grazie a tutti. Grazie a tutti. E voglio congratularmi con voi due per il lavoro fatto. Salute. A salute. Avete fatto un lavoro coi fiocchi. Sono in pochi che hanno le palle per fare questa roba. E adesso... Mi chiedo se siete pronti al passo successivo. Sì, sicuro. Sarebbe? Sto parlando di eliminare qualcuno. Solo perché qualcun altro gli punta contro un dito e ti dice di farlo. Sono stato in guerra, signor Gurino. Uccidevo chi mi dicevano di uccidere. Persone che il presidente puntava col dito. Questa è buona. Il presidente. Sì, mi piace. Ma stai... Parlando dei crocchi. Giusto? Sai. E cattivi. Non è quello che intendo io. Capisci? Sì, capisco. Bene. Ci serve gente come voi. In grado di eseguire gli ordini senza fare domande. Gestite questo lavoro come l'ultimo. E magari sarete accettati nella famiglia. Ma prima dovete pagare la quota di ingresso. E quanto sarebbe? Cinque mila a testa. È una fottuta fortuna. Ehi, nessuno ha detto che costava poco. Ma fedatevi. I benefici compensano largamente i costi. Lascerò decidere a voi. Henry vi aggiornerà sul resto. Ci vediamo più tardi. Eccoti qua. È stato un piacere. Hai già fatto quello che ti ho detto? Sì, sì, è tutto sotto controllo. È quello che hai detto l'ultima volta. Cerca di non deludermi di nuovo. Capo, io giuro... Sì, ora vieni con me. Dobbiamo parlare di un altro affare. Allora, Henry, di che lavoro parliamo? Devo far fuori uno. Il contratto è mio, ma mi serve aiuto. Qui entrate in gioco voi. Chi è il fortunato? Un ciccione che sta oltre il fiume. L'abbiamo avvertito, ma si crede intoccabile. Ah, e lo è? Beh, qualcuno ha già provato a farlo fuori. E? Diciamo solo che l'hanno leggermente sottovalutato. Leggermente quanto? Troppo. È un modo carino per dire che sono morti, giusto? Ehi, noi non siamo quei cazzoni. Ho affittato un appartamento di fronte a dove lavora. Lo aspettiamo e appena quello stronzo si fa vivo, boom! Tanti saluti. Come facciamo? Con una MG42. Ah. E dove la prendiamo, una MG42? Henry. Sì? È un veterano, come te. È un piccolo negozio d'armi provato a Kingston. Può farti avere qualsiasi cosa, la cervolta e la bazzuca. E non serve nessun cazzo di porto d'armi. Ok, io e Joe andiamo all'appartamento. Tu prendi la mitragliatrice da Henry a Kingston. È tutto pagato, degli solo che ti mando io. Puoi raggiungici all'appartamento, a Sand Island. L'edificio di fronte è alla distilleria. È il 233. L'appartamento 233. Ci vediamo là fra un po', ragazzi. Va bene, dopo. Buona fortuna. Ok, in gamba. Ok, in gamba. Sì, che c'è? È Rito Masino, mi ha mandato a ritirare il suo ordine. Va bene, entra. E là? Allora, sei tu quello di cui mi parlava Henry? Già. Hai la sua roba? Bene. Eccola qui. MG 42. Fatta in Germania. La falce di Hitler, la chiamavamo. Una bellezza. Ben 12 chili. Calibro 7,92. 1200 colpi al minuto. La più veloce al mondo. Un nastro da 250 colpi. Portata di 1200 metri ed estremamente affidabile. Non so cosa dovete sparare. Ma a meno che sia in un cazzo di carro armato... Beh, allora sayonara, baby. Devo mostrarti come si usa. No, grazie, le conosco. Anch'io sono stato in guerra. Ma va. Aspetta, mi prendi in giro. Aspetta, aspetta. E dov'eri? Normandia? No, Africa? Un attimo, fammi indovinare. Operazione Aski. Ma dai! In che unità eri? 504esimo parà. Davvero eri un paracadutista? Ve la siete vista brutta, ho sentito. No, non è stata una scampagnata. Sono stato colpito e mi hanno mandato a casa. Qualche medaglia? Purple Heart e CVM. Ehi, wow, una croce. Sai, non le danno via per niente quelle. Io ero in Normandia, siamo sbarcati a Utah Beach. Anche lì non è stata una scampagnata, ma... Mentre scavalcavo un recinto al ritorno, mi sono cavato l'occhio col ramo di un albero. Eh beh, è stato sufficiente per congedarmi. Ah, senti, devo proprio andare. Va bene. Ehi, a proposito, sono Harry. E io Vito. È stato un piacere, Vito, un vero piacere. Se ti serve qualcosa, sai dove trovarmi. Oh, ehi. Ecco qui. Spero che tu sia in macchina. È grossa. Buona fortuna. Grazie, Harry. L'arma è nella cassa e nel furgone fuori in cortile ci sono mucchi di munizioni. Prendi pure, è già tutto pagato. Ciao, Vito. Oh, 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 Grazie a tutti. Di dove sei, Harry? Sicilia. Come mai negli States? Mussolini. Ti ha preso un biglietto, eh? Ma che simpatico, Joe. Mio padre era... un uomo d'onore. Le cose sono andate male quando è salito Mussolini. Il mio vecchio ha pensato che mi avrebbero arruolato o arrestato. Così mi ha mandato qui e mi ha trovato un lavoro con Clemente. E tuo padre, invece? Ha detto che era troppo vecchio per il viaggio. Mussolini l'ha fatto arrestare e è morto in prigione. Non ci hanno nemmeno restituito il suo corpo per il funerale. Oh, brutta storia. E com'è che parli così bene? Arrivano! Quelle auto nere! Vito, mira il bastardo grasso. Dobbiamo farlo fuori prima che entri. Preparati. Bene, ci sono. Delle armi lassù a quella finestra. È lui, Vito. Uccidi quel cazzone. Ci andiamo biancati! Smettela di sparare, ragazzo! Sto diventando a bordo! Oh! Vito, a coppa! Mòve, di a te coppa! Ehi, morto! Bene, vai in c'era! Minchia! Spare da fare schiena! Muovite, Vito! Non possiamo far scappare quel ciccione di merda! Ok, prima tu, Vito. Sei tu l'erore di guerra. Vai, ti copriamo noi! Veniamo a prenderti, porcellino! Vito, copri! Bene, Vito. Si va in scena. Oh, cazzo, attenti! Tutto qui, quello che sei fare. Incazione, in guai. Stai bene, lo prenderemo. Capuntana, ora l'intero cazzo di posto. Venerai in cenere! Minchia, che spreco di auto. Dai, andiamo! Hop, hop! Muori, bastardo! Muoviti, Vito! Dobbiamo andare! Vito, copriti! Sei morto! Oh, no! No! Vene, Vito. Si va in scena. Oddio! Oddio, no! Oddio! Molti! O che bene! Dobre terzo! Non sono... Un'altra! Asciugate fuori un uomo sbagliato! E' parato nel jet! Un'altra! 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 Ok, premiamo il pulsante, vieto. Che minchia fai, Joe? Osa, o sedi, è un po' buono, dovreste provarlo. Vai pure, ma io non bevo sul lavoro. Eccoli che arrivano! Vieto, copro, mi hanno detto. Vieto, facciamo un esercito. Vieto, giù, fate qualcosa, non possiamo cazzeggiare. Cazzo, ti aspetta, che faccio? Mi stanno sparando, porca puttana. Vieto, fa qualcosa, sei tu l'esperto. Farà meglio mia sorella. Muoviti, io ti copro. Coraggio, il parco è da sopra! Oh, c'è un po' c'è un po' c'è un po' c'è. Oh, c'è un po' c'è un po' c'è un po' c'è un po' c'è. Non uccidetemi! Vi prego, sono sposato! Non fatelo! Dovevi pensarci prima. Però tutto quello che volete, non uccidetemi! Per l'amor di Dio! Don Clemente ti manda i suoi saluti. Oh, cazzo! Poi, che cazzo ti dispiace? Eris, stai bene? Dove ti ha preso? No, non sto bene per un cazzo. Mi ha preso la gamba, cazzo! Oddio! Reggia! Figliati! Sta prendendo sangue dappertutto. Portatemi dal greco! Il fottuto pettore! Il fottuto dottore, idiota! Ok, calmati, saremo lì in un minuto. Quello greco vive a Eiburg. Facciamola alla macchina. Madonna santa! Pesi più di quanto sempre! Qual ceccione di merda! Mi ha quasi fatto saltare le palle! Rilassa, te li è mancati di un miglio. Dai, Vito! Sta perdendo un mucchio di sangue! Datti una mossa! Ehi, attento! Fa male, cazzo! Ah, beh, vuoi iniziare a camminare? Se non smettere di frignarci. Non voglio morire! Ok, ok, non c'è bisogno di cazzarsi. Non voglio quello che muore nel sanguomo, bui cazzo. Cazzo, qui sta crollando tutto quanto. Ammazzate quello strunzo! Rendilo di lato! Mi divertirò un sacco ad ammazzarti! Vito, cobreci! Vito, cobreci! Cobraci, è che cazzo! Vito, cobreci! Vito, cobreci! Cobreci! Muoviamoci, il fuoco si sta diffondendo! Attenzione! Lo sapete, il mio tredicesimo contratto. Porta ghialla, cazzo. Che stai dicendo, bastardo fortunato? Uomo del cazzo! Ah, cazzo! Se non ce la faccio... Ehi, ehi, non dire così, amico, è solo un grafio. Il dottore ti mette qualche punto e poi andiamo tutti a festeggiare. No, sul serio. Shhh! Ora non deve parlare. Risparmia le forze. L'ho visto fare in un film una volta. Davvero? E cos'è successo a quello del film? È molto. Vito, forza! Questa appare non può andare ben fredda. Dobbiamo seminare gli sberri. Vado più veloce che posso. Beh, non è abbastanza veloce. Canti, ok? Ho un buco nella gamba grosso come una palla da golf. E vuoi che mi relassi? Portami dal greco, cazzo. Allora, chi è questo tizio? Quale? Quello da cui portiamo Harry. È il greco, un dottore. Ti molli un po' di verdone e lui ti mette a posto senza fare domanda. Diciamo che è la soluzione quando non puoi andare in ospedale. Perché non dovrei andare in ospedale? Perché se ti presenti lì con un buco di proiettile, per prima cosa chiamano gli sberri. Già, quindi il greco ha un sacco di clienti del nostro giro. Ma tu non ne avrai bisogno, Vito. Ti rimetti sempre molto in fredda. Ehi, Harry, Harry, rimane svegli. Sì. Tieni duro, amico. Saremo da il greco in un minuto. Ti asento la puzza di souffla, qui. Vito, là, quella casa. Perché c'è lì davanti. Sei il greco, il dottore? No, sono il greco, il pittore, cazzo. Il mio amico sta morendo di sanguato. Grazie, dottore. Oh, Dio, Harry. Dobbiamo un favore. Portatelo dentro. Ehi, ho i tuoi soldi. Per il lavoro, prendili. Potevo anche aspettare, ma grazie. E grazie di tutto. Ti rimetterai. Già, lo spero. Io rimango qui con il... Ci vediamo più tardi. Va bene. Ciao. Ciao. Ah, barbone del cazzo. Vito, oh, come va? Vi ho portato i soldi per pagare i debiti di papà. Oh, Vito, che bello. Volevo provare a vedere se potevamo pagare a rate un po' di soldi. Non ci avrebbe toccato, amore. Senti, ora... Ora non importa. Prendili. Dove hai preso tutti quei soldi? Vito, non hai fatto niente di male, vero? Fanny, non preoccuparti, va tutto bene. Grazie, Vito. Grazie. È tutto ok. Senti, ora vado, è meglio che mamma non mi veda. Non voglio che mi faccia domande. Tranquillo, qualcosa inventerò. Va bene. Dalle un bacio da parte mia, ok? Lo farò. Riguardati, Vito. Riguardati, Vito. Riguardati, Vito. Riguardati, Vito.